e ciao a tutti ragazzi e ragazzi io sono Luca e oggi siamo a questo un'omissima video di The Sims Mobile e iniziamo subito questa qua è la nostra casa e diciamo guardiamo un po' cosa dice il mio sim ora capisco perché era definita come un'incantevole casa da ristrutturare guardiamo un po' cosa succede ok si è mosso ah sta pulendo tutto ok guardiamo cosa dice la tentazione di costruire un fortino è grande ma sperazziamoci di queste scatole ok sperazziamoci guardiamo un po' ma cosa ma c'è dato un calcio ma cosa questa poi scusate c'è un po' di tosse e adesso ok se sbarzate persone di questa ok adesso cosa nasconde qua sotto penso un divano guardiamo guardiamo già e qui penso un tavolino guardiamo un po' sede di vita migliorato per i miei mobili e per il mio prossimo trucco scusate guardiamo un po' mi sa che esce un tavolo ah infatti wow questo qua sarebbe la nostra cucina wow adesso avete un posto dove sedersi è sicuro è una stanza è fatta sulla colla ah sul bagno penso camera da letto bagno non lo so lo sapete perché vabbè ragazzi dai facciamo il bagno semplicemente perché nella camera da letto poverissimo dormire sul divano quindi ok l'ho fatto guardiamoci adesso guardiamo adesso allora bagno quante belle cose che ci sono no allora intanto cambiamoci colore perché già non mi piace ok ecco così facciamolo di questo colore no ecc se c'è bollino perché doccia è sì però questo qua non mi piace più allora questo 1 no dove l'ha messo ok andiamo per i mobili istituzione distruttazione oh non c'è una persona mi sa che l'asciugamano me l'ha messo ecco infatti ecco qui dove me l'ha messo ecco no ok mettimelo un po qua adesso questo metto qua e questo lo metto no non ho sbagliato questo dicevo lo metto qua ok perfetto adesso guardiamo un po chi sta qua saluta guardiamo un po cosa dice ha fatto ciao sono daniela benvenuto nel quartiere allora abbiamo pulito giusto in tempo per l'arrivo del primo ospite chi di qualcosa quale è la storia di della casa o discuti del piano di rinnovo chiediamoci la storia della casa guardiamo un po abbiamo pulito giusto in tempo guardiamo un po ha fatto adesso discuti della casa da sogno rileva rileva traslochi scusate rileva traslochi emozionanti o discuti della casa da da sogno beh diciamo discuti della casa da sogno fare un po no ma perché un'ape ok sono davvero felice che tu stia personalizzando da questa casa ok mi ha dato riprendo per realizzare la nostra casa da sogno mi servirà una carriera ok così si fa oddio aria verde cosa sono queste cose non ho mai visto allora guardiamo un po il caff il caffè cerca del personale è un'occasione giusta sblocca sblocca gratis ok lo sbloccato ok iniziamo la carriera da barista toccando la posizione la posizione da barista ok inizio vabbè ragazzi spero che il video vi sia piaciuto se vi piaciuto lasciate un mi piace e noi ci vediamo al prossimo episodio ciao ciao